... Io credo sempre che la musica debba essere vista in questa maniera qua, cioè partire dalle idee e poi con quello che hai crescere sempre di più, studiare, migliorare, migliorare anche manualmente sullo strumento, ma questo non vuol dire che la tecnica sia il punto di partenza, ma è un punto di arrivo di una serie di pensieri che hai fatto. Quando mi sono iscritta al CDM ho pensato, mi scrivo a canto jazz, perché se ricomincio a cantare mi piacerebbe cantare jazz. Crearmi un percorso che mi potesse aiutare a mettermi nel mondo lavorativo e che mi potesse dare le capacità di esprimermi per l'appunto al meglio. Io adesso come adesso mi sento davvero tranquilla quando salgo su un palco, quando so di avere davanti delle persone che mi ascoltano. L'improvvisazione per me era assolutamente una novità. Non avrei detto, però questo mi ha fatto venire anche un po' la voglia di... ho scoperto un mondo nuovo e quindi anche la voglia.